Come tante altre scuole anche noi ci siamo attrezzati, qua esiste già da dieci anni direi la piattaforma Office 365 che ha già le classi virtuali su cui gli insegnanti agiscono indipendentemente da questa situazione di emergenza che però può rappresentare un'opportunità per incrementare questa innovazione verso cui stiamo andando. Per cui, non lo so, gli insegnanti preparano lezioni e le condividono attraverso la classe virtuale. Altri insegnanti invece preferiscono avvalersi della sezione didattica sul registro elettronico per cui viene garantita la continuità educativa e didattica anche e soprattutto per gli alunni con bisogni educativi speciali. Quindi la scuola non si è fermata. Quindi in questo modo si potrà anche finire nei tempi stabiliti l'anno scolastico? Sì, tenendo conto, precisiamo, non c'è più il programma, c'è un curriculum verticale che prevede il raggiungimento di obiettivi e sicuramente noi contiamo di arrivare alla fine dell'anno garantendo le pari opportunità per tutti e soprattutto il diritto all'apprendimento. Per cui abbiamo sensibilizzato anche i genitori a controllare e a vigilare anche sui propri figli affinché sfruttino questa tecnologia e questa condivisione di materiali a prevedimenti, eccetera. Grazie a tutti.